Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop e vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso che mi avete consigliato, come al solito, sul Google Docs. Questo è sicuramente un caso doloroso e per carità tutti i casi lo sono, ma questo in particolare mi ha davvero colpita. Oggi sono qui per parlarvi della storia di Molly Holgin e Christine Ciapa. È il 22 giugno del 2012 e ci troviamo a Portland, in Texas. Molly e Christine sono due ragazze molto unite. La sera del 22 giugno sarebbero dovute uscire per andare a cena da qualche parte, ma alla fine i piani erano cambiati. Molly infatti era dovuta rimanere a cenare con i suoi genitori, quindi alla fine avevano deciso di andare in un parco chiamato Violet Andrews Park. Questo è un parco molto bello, affacciato sulla baia di Cope's Christie, capoluogo della contia di Neuonses. Il Violet Andrews Park offre una vista panoramica eccezionale. Inoltre c'è una bellissima quiete. Qui le ragazze camminano e chiacchierano del più e del meno, fino a quando succede qualcosa di davvero terribile. È la mattina del 23 giugno, quando due osservatori di uccelli passeggiano per l'appunto al Violet Andrews Park. La coppia, un uomo e una donna, vedono in lontananza quello che sembra un mucchio di spazzatura. Anche perché in quella zona del parco c'è l'erba che è molto alta, ma appena si avvicinano si rendono conto di aver davanti i corpi di due ragazze legate e senza vita. Ovviamente questi due osservatori di uccelli chiamano immediatamente i soccorsi. Quindi quando i paramedici arrivano sulla scena si trovano davanti per l'appunto due ragazze. Sono legate, senza vestiti e hanno entrambe un foro di proiettile alla testa. I paramedici si attivano immediatamente per prestare loro soccorso. Una delle due ragazze non respira e quando gli investigatori arrivano sulla scena del crimine, la prima vittima viene dichiarata morta. I paramedici a questo punto provano a prestare soccorso all'altra ragazza presente sulla scena del crimine. Ed incredibilmente si muove. Questo vuol dire che quella ragazza è sopravvissuta. I paramedici e gli investigatori quindi si affrettano a trasportarla sull'ambulanza. La seconda vittima quindi viene portata via. Poi, nel parcheggio a fianco al parco, gli investigatori notano una macchina. Fanno un controllo sulla targa e scoprono che quella macchina è intestata a una ragazza di 19 anni di nome Molly Holgin, che a dirla tutta vive a circa 20 chilometri di distanza da quel parco. A Cops Christi per l'esattezza. Gli investigatori quindi chiamano i suoi genitori, Mario Holgin e Marielle Holgin, per dargli la terribile notizia. La loro amata figlia è stata trovata in un parco senza vita. Secondo la sua famiglia, Molly era uscita per incontrare una sua cara amica, ossia la diciottenne Christine Ciapa, che ora è in ospedale, in terapia intensiva e sta lottando tra la vita e la morte. La famiglia di Molly spiega che le due, prima dell'aggressione, erano inseparabili. Molly era una ragazza gentile, divertente e di buon cuore. Frequentava la A&M University, mentre Christine sognava di andare al college. Erano entrambe due ragazze socievoli, benvolute dalla comunità e amate dalla loro famiglia. Non frequentavano brutte compagnie né facevano uso di sostanze. Da molti vengono descritte come le ragazze che tutte vorrebbero avere come figlie. Sulla scena del crimine, gli investigatori valutano attentamente le prove. Trovano un bossolo di una pistola automatica calibro .45. Sono presenti anche dei mozziconi di sigaretta e né Molly né Christine fumano. Quindi è probabile che quei mozziconi appartengano all'assassino. Gli investigatori inoltre trovano anche un paio di lattine di energy drink. Niente fa pensare che sia stato rubato qualcosa. Perciò i detective fin da subito sono convinti che il movente non sia una rapina. Nell'attesa di ricevere notizie su Christine, la polizia fa visita ai genitori di Molly, che purtroppo hanno davvero poche informazioni da offrire. I detective chiedono immediatamente se Molly ha avuto problemi con qualcuno in passato, ma i suoi genitori non ne hanno idea e sicuramente Molly non gli ha detto nulla. Gli investigatori a questo punto partono da zero, cercano possibili nemici di Molly e Christine. Forse qualcuno era arrabbiato con loro? Partono quindi le indagini e i detective interrogano tutti gli amici e le amiche di Molly e Christine. Ma non trovano nessuno che parli male di quelle due ragazze. Nessuno dice niente di negativo. Erano davvero delle brave ragazze, dolci, generose e simpatiche. Questo vuol dire che i detective non stanno facendo alcun progresso nella ricerca del colpevole. Insomma, quelle due ragazze erano in un parco e non stavano facendo nulla di male. Ai detective quella sembra quasi un'aggressione casuale, quindi non sanno proprio da che punto partire. Nessuno aveva visto niente, non c'erano persone sospette che gravitavano attorno a queste ragazze. Quindi i detective decidono di fare marcia indietro. Tornano dalle amiche e dagli amici delle ragazze per porgere loro delle domande più mirate e approfondite. Chiedono quando hanno visto Molly e Christine per l'ultima volta. E tutti sostengono che il giorno precedente all'aggressione erano entrambe in un centro commerciale. I detective a questo punto chiedono se avevano un ex fidanzato o un'ex fidanzata che poteva avercela con loro. Insomma, gli investigatori hanno bisogno di partire da qualcosa. Che posti frequentavano? Dove andavano? Cosa gli piaceva fare? I detective analizzano ogni dettaglio con la famiglia e gli amici di Molly. Cercano qualsiasi elemento che li possa portare a qualcuno a cui, magari, non piaceva il loro rapporto. Ma non riescono a scoprire nulla. Le amiche non hanno alcun indizio utile. Ma rivelano un segreto ben custodito dalle due vittime. Molly e Christine non erano soltanto amiche, bensì stavano insieme. Questo vuol dire che erano una coppia. Che erano fidanzate. Le due giovani, quella sera del 22 giugno, sono state legate e sono state colpite alla testa da un'arma da fuoco. Per l'esattezza, da una pistola calibro .45. Molly Holgin, purtroppo, non ce l'ha fatta. Ma la sua fidanzata, Christine Ciapa, è in ospedale e continua ad aggrapparsi con le unghie e con i denti alla vita. Sembra si stia riprendendo. A questo punto, i detective sanno che le ragazze erano più che semplici amiche. Avevano paura di uscire allo scoperto perché non sapevano se sarebbero state accettate. La domanda, a questo punto, delle indagini nasce spontanea. Questo è un crimine d'odio? Le due ragazze sono state colpite per il loro orientamento? Sono state colpite perché erano insieme? Perché magari si scambiavano qualche fusione? Sia un crimine d'odio o un atto brutale di violenza casuale? Una cosa è chiara. Chiunque l'abbia fatto è uno psicopatico. Ciò significa che chiunque abbia avuto a che fare con le ragazze è un potenziale sospettato. I notiziari a questo punto parlano dell'accaduto e la polizia ascolta diverse testimonianze di numerose persone che frequentano quel parco o che abitano lì, vicino a quel parco. Alcune di loro si mettono in contatto spontaneamente con la polizia oppure vanno in centrale per dare quante più informazioni possibili. E in effetti alcune di queste persone sostengono di aver sentito dei suoni simili a dei petardi verso le 22.30 del 22 giugno. Ma a questo punto spunta fuori un testimone, un testimone che ha un indizio ben più utile. Un uomo di nome David Strickland che abita vicino al Violet Andrews Park dice ai detective che quella sera del 22 giugno stava tornando a casa quando aveva visto una berlina bianca nel parcheggio a fianco al parco che poi improvvisamente aveva accelerato allontanandosi. I dettagli sulla marca e sul modello della macchina sono sfocati ma quella è la pista migliore che si è emersa fino a quel momento. Mentre la polizia controlla i veicoli bianchi presenti in zona dall'ospedale dove Christine Ciapa è ricoverata arriva una notizia. La ragazza si è ripresa, ha subito delle gravi lesioni cerebrali ma vuole immediatamente vedere gli investigatori. Christine durante i primi giorni d'indagine prova a comunicare con loro sollevando un dito, stringendolo oppure sbattendo le palpebre. Dopo circa una settimana la ragazza riesce a comunicare scrivendo qualche parola purtroppo non riesce ancora a parlare. I detective hanno la necessità di identificare il colpevole e Christine vuole essere d'aiuto. Infatti grazie al suo impegno per ricordare l'aggressore viene creato un identikit del possibile assassino. È un uomo bianco di 20 anni con capelli scuri e corporatura esile. Due settimane dopo l'aggressione i detective e i genitori di Christine le dicono la verità. Quella verità che lei era stata nascosta per farla tornare in forze senza ulteriori preoccupazioni. Molly in realtà è morta, non ce l'ha fatta. Christine si sente in colpa per essere sopravvissuta e a questo punto ha solo un obiettivo aiutare la polizia a catturare quell'uomo che ha ucciso la sua fidanzata. Il tempo passa e la memoria di Christine migliora sempre di più ricorda nuovi dettagli ed è pronta a parlare di quella notte. Che cos'è successo davvero? Christine racconta che lei e Molly erano uscite insieme quella sera. Inizialmente dovevano andare al cinema ma si era fatto tardi quindi avevano pensato di passare qualche ora al parco. Christine spiega che si stavano divertendo stavano passeggiando e chiacchierando del più e del meno. Quel parco non è affatto piccolo e a quanto dice Christine erano totalmente sole. In quella zona c'erano solo loro. Poi avevano notato un uomo che si muoveva nell'ombra. Si era avvicinato velocemente a loro e a questo punto le due ragazze avevano notato che era armato di pistola. L'uomo le aveva strattonate e spinte. Aveva ordinato a entrambe di andare sotto un ponte di osservazione. Poi le aveva obbligate a legarsi a vicenda. Quell'uomo continuava a urlare ordini e continuava a chiamarle ragazza 1 e ragazza 2. Christine aveva messo il nastro adesivo sulla bocca e sugli occhi di Molly e poi su se stessa. Dice che mentre lo metteva sui suoi occhi aveva lasciato un piccolo spazio da cui poteva vedere qualcosina. Così Christine dice che quell'uomo portava dei guanti neri era vestito totalmente di nero e puzzava di sigaretta. Aveva una calza in faccia che però era un po' trasparente quindi Christine in qualche modo era riuscita a vedere il suo volto. Dopo circa un mese dall'aggressione Christine viene dimessa dall'ospedale e fornisce maggiori dettagli per migliorare l'identikit del suo aggressore. Nello stesso momento gli investigatori hanno la loro prima grande occasione perché il DNA trovato sui mozziconi di sigaretta sulla scena del crimine è presente nel database e corrisponde ad un ragazzo di nome Dylan Spellman che a dirla tutta ha già un'accusa di rapina a mano armata nello stato del Nevada. Il ragazzo però attualmente vive a circa un chilometro di distanza dal luogo in cui sono state trovate le ragazze. Dylan e la sua ex ragazza Alicia Dickey erano in effetti stati al Violet Andrews Park un mese prima dell'omicidio più o meno. I due stavano facendo le loro cose ed erano stati beccati dalla polizia. Probabilmente il ragazzo dopo essere stato accusato di rapina a mano armata in Nevada era tornato in Texas in attesa del processo. Così la polizia di Portland scopre che il caso in Nevada in un certo senso è simile al loro caso. Infatti secondo il fascicolo del caso i sospettati tra di loro si chiamavano con dei numeri. Christina la polizia di Portland ha raccontato che il suo aggressore si riferiva a lei e a Molly come ragazza 1 e ragazza 2. La polizia a questo punto contatta Dylan e lo sottopone a un test del poligrafo che fallisce. I detective a questo punto vanno a parlare con Dylan il quale non ammette certo di essere il colpevole ma fa un commento o meglio una domanda che lascia i detective alquanto interdetti. Dylan chiede sono solo curioso se lo ammettessi se ammettessi di essere il colpevole che cosa otterrei? I detective gli sorridono e gli dicono beh Dylan andiamo dal procuratore e lo scopriremo. I detective pensano che Dylan sia il loro uomo quindi incontrano il procuratore per vedere se riescono ad incriminarlo. Però senza la sua confessione ma soprattutto senza l'identificazione di Christine tutto quello che hanno sono i mozzicconi di sigaretta e le lattine trovate sulla scena del crimine. Il punto è che su quelle lattine e su quei mozziconi c'è il DNA di Dylan però non ci sono testimoni insomma non ci sono abbastanza prove indizi per creare un caso contro Dylan. A questo punto i detective non sanno cosa fare quindi tornano sulla scena del crimine sperando di trovare nuovi indizi utili cercano di ricreare la scena mentalmente poi si guardano e si rendono conto di essere arrivati alla stessa conclusione. Quando Christine aveva descritto l'uomo aveva detto che era alto più o meno come loro ma Dylan è alto più di un metro e ottanta. Dylan Spellman non corrisponde alla descrizione dell'assassino fatta dalla vittima di conseguenza la polizia lo sposta in fondo alla lista dei sospettati. I mesi successivi non emergono altre novità sembra che il caso sia destinato a restare irrisolto e durante questo periodo Christine fa numerosi progressi. Il lato sinistro del suo corpo è rimasto paralizzato a causa di quell'orrenda aggressione ma nonostante questo grazie alla riabilitazione riacquista la capacità di camminare passa un anno senza che ci siano novità e la frustrazione non può far altro che aumentare. L'indagine si trova ad un punto morto quindi i detective riaprono il fascicolo del caso e ricontrollano tutto ogni documento ogni indizio più di una volta se necessario. Sono convinti che se insistono qualcosa sarebbe emerso. Nel frattempo la polizia di Sinton si mette in contatto con la polizia di Portland siamo sempre in Texas in quanto è giunta una lettera che ha a che fare con Christine Ciapa. Gli investigatori si precipitano a Sinton per recuperare quella lettera quella prova. La lettera è indirizzata al padre di Christine ed è stata consegnata in una busta di plastica. Il mittente di quella lettera è un uomo che dice al signor Ciapa di essere stato assunto per uccidere sua figlia non solo Molly anche sua figlia e forse visto come si erano messe le cose sarebbe tornato lui a finire il lavoro. L'autore della lettera sostiene che inizialmente aveva deciso di rifiutare il lavoro e quando l'aveva comunicato all'uomo che aveva provato a sua volta ad assumerlo quest'ultimo se ne era occupato lui stesso di persona. La polizia riceve spesso segnalazioni che portano a false piste. Questa però sembra diversa. Quella lettera descrive cose che nessuno avrebbe potuto sapere tranne l'assassino. A questo punto i detective cercano di mettere in sicurezza Christine e la sua famiglia perché quella lettera contiene una minaccia. Il sicario alla fine della lettera scrive il nome dell'uomo che ha provato ad assumerlo ossia un uomo di nome Cristobal Melcher dello Utah. I detective scoprono che l'uomo è un riservista dell'esercito quindi sa sicuramente usare un'arma da fuoco. Questa tra l'altro è un'ipotesi che era già stata presa in considerazione. Fin dall'inizio delle indagini infatti i detective avevano ipotizzato che il colpevole potesse essere una persona con un passato militare oppure con un passato in polizia. Ma perché mai tentare di uccidere due ragazze a 1800 km da casa? I detective a questo punto vanno nell'Utta proprio per parlare con Cristobal. Gli chiedono se conosce Christine Chapa o Molly Holgin e l'uomo cade letteralmente dal pero dice che non ha idea di chi siano queste ragazze. I detective a questo punto gli mettono sotto il naso la lettera indirizzata al padre di Christine. Cristobal la legge e rimane scioccato da ciò che c'è scritto sopra. Non riesce a credere che qualcuno lo stia accusando di omicidio. È sorpreso anche di essere entrato nel nove euro dei sospettati a dirla tutta. I detective a questo punto dicono a Cristobal che la persona che ha scritto quella lettera ha legato anche una sua foto. I detective gliela mostrano e appena l'uomo la vede capisce tutto. Riconosce di che foto si tratta e dice il detective che è stata tagliata perché c'era qualcun altro accanto a lui in quella foto. La foto originale comprendeva lui e il suo ex inquilino ossia il 27enne David Strickland. I due si erano conosciuti tramite amici in comune due anni prima. David aveva bisogno di un posto dove stare quindi Cristobal gli aveva proposto di condividere una casa e di vivere lì insieme. David aveva vissuto nell'oiuta per un po'. Poi Cristobal un giorno era tornato a casa da lavoro e aveva scoperto che David era andato via rubandogli tutte le sue armi. In effetti Cristobal aveva denunciato un furto d'armi in casa sua e il sospettato del furto era proprio David Strickland. L'uomo alla fine era stato fermato mentre provava a tornare in Texas quindi era stato riportato nell'oiuta e arrestato. Durante l'arresto la polizia aveva trovato nella sua macchina le armi di Cristobal e gliele aveva restituite. Inoltre era stato confiscato uno zaino nero contenente diversi oggetti particolari e personali repertandoli come prove ovviamente. Come già vi ho detto Cristobal aveva sporto denuncia ma David era uscito su cauzione ed era tornato a Portland in Texas per vivere con la sua famiglia in attesa del processo. La storia è convincente sta in piedi ma gli investigatori hanno bisogno dell'alibi di Cristobal per toglierlo dalla lista dei possibili sospettati e in effetti l'uomo afferma che il 22 giugno del 2012 era in California per una sessione di addestramento. Uno dei superiori di Cristobal assicura che due anni prima erano insieme in una base in California. Quella lettera quindi si rivela un trucco per indirizzare la polizia verso il sospettato sbagliato quindi decidono anche di fare un controllino su David Strickland. Tornati in Texas gli investigatori si precipitano in centrale per leggere nuovamente il fascicolo del caso. Questo nome questo David Strickland gli è familiare e quando aprono quel fascicolo capiscono chi sia David Strickland. Non solo capiscono che David è collegato alla vicenda ma anche che la lettera non è la prima falsapista fornita alla polizia da quell'uomo. Infatti se ricordate David Strickland aveva detto all'inizio delle indagini di abitare vicino al Violet Andrews Park e che aveva visto la sera del 22 giugno 2012 una berlina bianca in un parcheggio che poi improvvisamente aveva accelerato allontanandosi dalla zona. Gli investigatori sono appena tornati in Texas e a questo punto sono convinti di aver individuato la pista giusta finalmente. Così si precipitano immediatamente a casa di David Strickland. L'uomo apre la porta i detective gli dicono che sono lì per l'omicidio di Molly Holgin avvenuto ormai due anni prima al Violet Andrews Park. David aveva chiamato per dare una pista ai detective o comunque per dare loro un indizio quindi non può certo far finta di non sapere niente così annuisce dicendo sì sì mi ricordo e fa entrare i detective in casa. Mentre valutano il sospetto gli investigatori restano colpiti dalla sua statura non è molto più alto delle due vittime. I detective a questo punto chiedono a David se ha sempre vissuto lì e David in effetti dice che si era ruolato nell'esercito ma aveva capito che quell'ambiente non faceva per lui. In realtà David era stato esentato dal servizio militare perché aveva dei problemi psicologici. I detective a questo punto gli chiedono se conosce un uomo di nome Cristobal Melcher e David annuisce sostenendo di aver vissuto con lui per un periodo nell'Oiuta. I detective a questo punto gli chiedono se è mai stato arrestato. David risponde che si è stato arrestato ma per cose di poca importanza insomma niente di serio. I detective insistono chiedendogli se è mai stato arrestato per furto nell'Oiuta. David a questo punto si rifiuta di rispondere alla domanda e mette i detective alla porta. I detective d'altro canto ora come ora hanno delle prove alquanto importanti in mano come la lettera e finalmente hanno individuato il loro sospettato quindi concentrano tutte le attenzioni su di lui. Al momento delle aggressioni alle due giovani nel 2012 David viveva a Portland in Texas. Poco dopo era andato nell'Oiuta e aveva vissuto per un periodo con Cristobal. Un anno dopo David era stato accusato del furto delle armi di Cristobal nell'Oiuta. Così le autorità del Texas ora danno un'occhiata allo zaino che è stato confiscato come prova al momento dell'arresto e in effetti dentro quello zaino nero ci sono degli oggetti a dir poco strani come un lubrificante dei preservativi delle manette flessibili uno spray al peperoncino inoltre trovano anche un paio di guanti neri e una Glock 45. I detective pensano ai proiettili che avevano colpito le due ragazze e al bossolo che avevano trovato sulla scena del crimine che era un calibro 45. Quel proiettile pensano gli investigatori effettivamente potrebbe appartenere a una Glock 45. I detective fanno analizzare la pistola o meglio sparano un colpo e poi fanno analizzare il bossolo alla scientifica comparandolo con quello trovato due anni prima sulla scena del crimine e in effetti quei bossoli corrispondono. A questo punto i detective vanno a casa di David Strickland e lo arrestano. David è accusato di omicidio capitale aggressione intima aggravata e aggressione aggravata. L'uomo si dichiara parole sue assolutamente non colpevole così i suoi avvocati puntano il dito su Dylan Spellman che è stato un sospettato per l'esattezza è stato il primo sospettato il punto è che non è mai stato accusato della sparatoria ma il suo DNA è stato trovato su diversi oggetti presenti sulla scena del crimine inclusi dei mozziconi di sigaretta e delle lattine mentre il DNA di David non è presente su nessuna prova raccolta. I detective trovano anche una bozza della lettera inviata al padre di Christine nel computer di David e quella sì che è una prova molto importante. Ad un certo punto David cambia anche idea e sostiene di aver colpito Maddie e Christine perché erano state maleducate con sua moglie che faceva la cameriera in un ristorante chiamato Chills and Bar così lui le ha seguite fino al parco ha fatto violenza su di loro e infine le ha sparato. I pubblici ministeri però sanno che Maddie e Christine la sera della sparatoria non erano assolutamente andate in quel ristorante a mangiare. Nel 2016 quindi dopo quattro anni David viene condannato all'ergastolo senza condizionale fino a quando nel 2019 viene effettuata un'analisi del DNA su una piccola parte di pelo trovato sul corpo di Maddie. Quel DNA corrisponde a Dylan Spellman così come tutte le prove raccolte sulla scena del crimine nessuna esclusa gli avvocati di David di conseguenza provano a chiedere un appello viste le nuove prove ma questo appello gli viene negato. Christine decide di rilasciare un'intervista a The Views il 29 ottobre del 2019. The Views è un programma televisivo statunitense in onda sulla ABC. La trasmissione è stata concepita per essere condotta da un gruppo di sole donne di diversa età ideologia ed estrazione sociale. La ragazza spiega che ha dovuto imparare di nuovo a camminare a parlare e perfino a sorridere dopo l'aggressione. Ha detto che ora la sua vita nel complesso sta andando bene. La ragazza racconta che sta frequentando dei corsi universitari mentre sta scrivendo un libro in cui racconta la sua esperienza. Aggiunge che è consapevole di non doversi solo riprendere fisicamente dicendo queste esatte parole. lotto con un disturbo da stress post-traumatico e ho tanta ansia o attacchi di panico. Sono consapevole che il mio corpo non tornerà mai più al 100%. Mi manca molto la mia vita di prima e attualmente non sono neanche in grado di andare a prendere ad esempio i miei nipoti a scuola. Voglio riavere la mia indipendenza. La ragazza ha detto anche che deve la sua guarigione alla vicinanza della sua famiglia. In particolare a sua madre Grace che è rimasta con lei in un centro di riabilitazione a Houston per tre mesi e mezzo. Christine ha seguito dell'aggressione per anni si è dedicata alla sua salute. Ha lavorato e continua a lavorare instancabilmente per recuperare il suo braccio sinistro che ahimè continua ad essere in parte paralizzato. Questo è tutto però a me sorgono dei dubbi non indifferenti. Per quanto mi riguarda il DNA non mente mai e risulta strano che sulla scena del crimine sia presente il DNA di Dylan Spellman che non è mai stato accusato per questo reato. Ci tengo a sottolinearlo la polizia ha continuato a tenerlo d'occhio ma non è mai emerso nulla a suo carico. In carcere c'è David Strickland e sicuramente quella lettera che ha scritto e che è stata ritrovata in parte nel suo computer non lo fa risultare innocente. È chiaro che sia coinvolto nel caso ma non riesco a capire a che livello sia coinvolto. Mentre a mio avviso Dylan Spellman è per forza coinvolto. Oppure vogliamo pensare che sia arrivato sulla scena del crimine lasciando il suo DNA ovunque senza rendersi conto che proprio lì vicino c'erano a terra due ragazze agonizzanti. È un caso strano questo e sono curiosa di sapere se ci saranno delle novità ma soprattutto sono curiosa di conoscere le vostre opinioni. Conoscevate questo caso? Cosa ne pensate? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti per l'appunto. Detto questo io ho finito di parlare in questo video spero vivamente che questo caso possa essere stato per voi interessante. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video io vi mando un bacione mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non fate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!